Ancora una tragedia dell'immigrazione clandestina nel canale di Sicilia. Una lista di vittime che diventa sempre più lunga, giorno dopo giorno, in un periodo nel quale, grazie alle condizioni del mare, gli sbarchi vanno avanti a oltranza e senza sosta. La notte scorsa cinque persone sono morte nel naufragio di un gommone, che mezzi e la marina militare hanno trovato ormai la deriva e semi-affondato. I militari sono riusciti a salvare 61 superstiti e a recuperare i corpi delle vittime, ma gli stessi sopravvissuti hanno raccontato di essere stati in tutta un'ottantina a bordo del gommone. Le ricerche in mare da parte della nave urania continuano per trovare eventuali altri dispersi, mentre la Zefiro si è diretta verso la nave San Giorgio per portare a bordo i sopravvissuti. Quello che ha portato al salvataggio dei naufraghi non è stato che uno degli interventi dei mezzi e la marina militare svolti la notte. Nell'ultima ora la corvetta Sfinge ha raggiunto un gommone con a bordo 95 migranti, tra loro due donne. La nave Anfibbia San Giorgio ha soccorso altre due imbarcazioni con 276 profughi, tra cui 33 donne e 5 minori, e per due immigrati è stato necessario il trasferimento in un elicottero in un ospedale di Catania. La Zefiro ha soccorso tre gommone imbarcando in totale 294 migranti, tra cui 28 donne e 9 minori, mentre la corvetta Urania ha infine raggiunto un gommone con 98 migranti, tra cui 28 donne. Nei giorni scorsi altre 29 persone erano morte per asfissia all'interno della stiva di un barcone soccorso nel canale di Sicilia e condotto a Malta. Tra le vittime di quello sbarco anche un bambino di appena un anno è arrivato cadavere a Messina, dove il gruppo di migranti, 400 in tutto, era stato trasferito da una petroliera. In questo caso però non si conoscono le cause della morte. Grazie a tutti.